È una delle cose che mi piace, mettere sempre il gruppo davanti a tutte le individualità che alla fine nel calcio c'è. Penso che senza un gruppo unito, senza una famiglia come diciamo che siamo noi è impossibile raggiungere gli obiettivi importanti. Questo anno stiamo dimostrando di essere ancora un gruppo più uniti, più forti e siamo vicini fortunatamente al nostro obiettivo. Tutti i calciatori, tutti i compagni passano dei momenti alti, dei momenti vasi durante la stagione perché è impossibile giocare al massimo per undici mesi. E noi abbiamo dimostrato che quello che entra, apporta la squadra, vuole aiutare la squadra e alla fine è l'importante del calcio, il gruppo e è per quello che siamo vicini a questo passito di entrare in Champions League. Tutti i gol hanno un significato a livello personale, quello sicuramente ha tanto significato perché è il primo e diciamo di dove siamo ripartiti. Abbiamo fatto questo grande percorso e speriamo domenica con una vittoria e con un gol, meglio ancora, di poter chiudere e poter prendere con le mani questo obiettivo della Champions. Un ragazzino, ha 21 anni, è tutto a cuore, è molto molto bravo, un ragazzo di famiglia, pure la famiglia vive qua con lui. È molto bravo e come giocatore è molto forte, mi sento molto molto contento per lui, per quello che ha fatto in queste due partite che erano vitale per noi. So che è un giocatore che ci tiene tanto al Milan, al club, che tutti l'avevamo colto molto molto bene nel gruppo, perché è un giocatore che si fa voler bene, quindi sono molto contento per lui e speriamo che rimanga con noi. Per noi sicuramente era una delle partite più importanti dell'anno, mettere ancora tre punti quando mancano due partite, giocare contro una squadra che si gioca la salvezza non è mai facile. Mi sono trovato pronto, sono sempre pronto per aiutare la squadra, per aiutare i miei compagni. Ieri e ieri abbiamo fatto una grande prestazione tutti. Dipenderà da noi, perché quando siamo concentrati siamo sul pezzo e siamo con la testa dentro la partita, siamo una squadra forte, l'abbiamo dimostrato e vogliamo prendere questo obiettivo, quindi sicuramente questo atteggiamento riuscirà.